Amato, stimato, forse anche rimpianto, un uomo del domani, un imprenditore d'altri tempi. Tempi in cui la Polonia non seduceva gli imprenditori italiani che trovavano sul territorio nazionale ciò di cui avevano bisogno. Lucio Marco Tullio, il professore, aveva saputo vedere cose che altri non avevano visto. Aveva immaginato una fabbrica per l'uomo e non l'uomo per la fabbrica. Era il nostro Adriano Olivetti, ha detto oggi Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara, intervenuto alla presentazione del libro dedicato a Lucio Marco Tullio. Mille mani, una sola anima, a cura di Luigi G. Giuseffatte, direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, per le edizioni Textus. Il volume è stato presentato nella sala consigliare del Comune di Penne. Partendo dal titolo, che sono parole che amava ripetere il professor Marco Tullio, è anche qui la genialità perché con cinque sole parole in realtà descriveva un modello organizzativo che poi ha portato al successo dell'azienda. Noi abbiamo voluto questo progetto editoriale perché ritenevamo che ciò che ha scritto, gli scritti illuminanti di questo grande uomo non rimanessero patrimonio di pochi, ma potessero essere appunto allargati ai più. Cosa direbbe oggi Lucio Marco Tullio nel vedere l'Abrioni di oggi? È una bella domanda, me lo sono chiesto anch'io. Probabilmente ne soffrirebbe, questo è quello che mi sento di dire. Perché lui era un uomo il cui operato era concentrato sul capitale umano, sul forte engagement che aveva con i suoi dipendenti, sulla forte manualità di una sartorialità, diciamo, importante. Quindi questo momento lo avrebbe vissuto molto male, ritengo. Quando si crea valore si buttano anche le basi per far sì che le aziende restino. Quindi il tema fondamentale rimane la capacità di realizzare qualcosa che abbia senso in un mercato e quindi credo che è da lì che bisogna partire. Questa opera che presenteremo oggi dà uno spaccato del valore imprenditoriale, del valore culturale, storico e cristiano del professor Marco Tullio, di come sia possibile conciliare un'economia civile, uno sviluppo del territorio, una ricchezza anche nelle aree che sono le più sperdute delle nostre, diciamo, colline, dei nostri centri. Ecco, lui ha dimostrato esattamente di poter conciliare un'economia giusta, un'economia civile con uno sviluppo non solo del territorio, ma anche delle persone, dei lavoratori che sono sul territorio. Secondo lei è stata raccolta abbastanza questa eredità, questo insegnamento? È difficile dirlo, dal punto di vista economico e imprenditoriale gli scenari sono molto cambiati, ma lui è stato anticipatore di grandi temi, importantissimi. Già nell'86 lui parlava di responsabilità sociale di imprese, questo libro ne dà testimonianza, parlava addirittura del caso Brioni come indigenizzazione del lavoro, cioè specializzare le persone e portarle dentro l'azienda e non fuori dall'azienda. Sono temi che sono ancora oggi sul tappeto, sono ancora oggi molto forti. Dal punto di vista politico è ancora presto per dire se questa eredità è stata raccolta.